Valerio le banche stanno sempre più chiedendo capitali dell'imprenditore per poter finanziare cosa succederà a breve? Succederà che non si è ancora capito che sta cambiando il mondo cioè la BCE sta emanando delle direttive e ci sono delle regole internazionali insomma che ormai vanno in quella direzione lì, Basilea 3 ci sta portando in quella direzione per cui cambieranno proprio le regole del gioco cioè le banche chiederanno più patrimonio alle imprese. Ora si può rinviare questa roba, le banche italiane stanno facendo finta di niente stanno chiudendo un occhio, ne stanno chiudendo due ma alla fine questa roba arriva per cui o cominci a capire che bisogna cominciare a capire dove va il mercato e capire come si fa a risolvere quel problema perché o non li togli o li metti oppure tra qualche anno ma probabilmente qualche mese le cose cominciano a farsi veramente difficili. Grazie per la visione!